Ben ritrovate al nostro spazio dedicato agli appuntamenti. Domani la Fondazione Credito Bergamasco porta a Romano di Lombardia la mostra intitolata Panis Vitae, esposizione che delinea un percorso di riflessione e ricerca unendo l'arte visiva a forme di meditazione testuale. Dopo la tappa di Romano, presso il Museo d'Arte e Cultura Sacra, l'evento espositivo proseguirà poi a Presezzo. Domani, presso la Sala Greppi di Bergamo, torna l'appuntamento con Musica e Solidarietà, evento organizzato dal Lions Club a Bergamo San Marco, il cui ricavato verrà devoluto a favore di ELEGO, associazione che aiuta i ragazzi affetti da dislessia. Il concerto del minicoro Monterosso inizia alle ore 16.30. Per domani sera restiamo in tema di beneficenza. A Mozzo, la Meg Fit Academy rinnova l'appuntamento con l'iniziativa Per Accendere una Stella, giunta alla non edizione e in favore del Cesvi. Sul palco del Teatro Agorà di Mozzo si terranno esibizioni di fitness e insieme ai gruppi di danza della Maggy Pop Academy. Le informazioni sono disponibili su www.aeromeg.it. Il concerto inizia alle 20.30. La giornata di domenica può essere trasformata in una gita sul lago di Seo, alla scoperta dei borghi lacustri più belli e a bordo di uno storico e caratteristico treno vapore. La partenza del convoglio dalla stazione centrale di Treviglio avviene alle ore 9.20. Il rientro è previsto per le 20.00. Le prenotazioni vanno effettuate allo 035 38 82 500. Chiudiamo con la musica delle Giannissime in concerto domenica sera al Birra Rock Live di Villa D'Adda. La tribute band tutta al femminile di Gianna Nannini comincerà a suonare alle ore 21.30.